Diciamo, ecco Giorgio Calcaterra E' sempre Vittorio abbiamo intravisto, no? Sì, sì, ancora Vittorio è attaccato, si insieme con i primi Era il primo passaggio a Piazza Venezia, no? Sì, sì Ecco Giorgio Calcaterra Che ha detto che poi dichiarerà che non l'ha fatta al massimo perché pensava a Sisi Provare anche altri atleti di un certo valore, ci avviciniamo qui alla premiazione E guardiamo in mezzo a tutti gli altri Eccolo qui, l'abbiamo pescato E' proprio lui, siamo riusciti a trovarlo, il grande Giorgio Giorgio, com'era sta gara, sto percorso? Bello, a me poi, a correre a Roma, penso per noi romani è sempre un faccio in particolare Peccato per il bagnato, cioè non ha piovuto, però si scivolava un pochettino Però va bene, insomma Senti, la tua gara ha un bel tempo, come l'hai vista? Ma io l'ho fatta in vista di Assisi, quindi non l'ho tirata proprio al massimo Comunque, insomma, neanche pianissimo, ho messo 31,50 E quindi, insomma Però certo, quando corri non proprio al limite Riesci a goderti un po' di più quello che c'è attorno E quindi, tra virgolette, ti diverti di più Certo, certo Ascoltiamo anche un altro... Invece Vorace ha prenduto quel freddo E quindi, insomma, la tua gara ha prenduto quel freddo